ciao sono giorgia sono veneta d'origine però ho vissuto a roma per sei anni e ora vivo a barcellona il mio idolo si chiama simone caporale lui è un barman italiano che lavora però all'estero quello che mi piace di più di lui è la sua capacità di unire un lato di design artistico insieme alla grande qualità dei suoi cocktail quindi alla creazione di bicchieri fatti ad hoc per contenere ed esprimere ancora di più quello che il cliente poi va a bere ma una cura del dettaglio incredibile io sono una barman e bar manager il bar manager è colui che si occupa diciamo a 360 gradi della gestione del bar e del locale in cui lavora quindi dalla scelta dei prodotti al team working alla creazione di un menù sono laureata in arte teatro e i miei studi teatrali mi aiutano tantissimo nella comunicazione con il mio team a me affascinano moltissimo le grandi città e mi piace l'idea di poterle conoscere così mi sono trasferita inizialmente a roma e adesso barcellona a barcellona sto ampliando i miei studi anche nel settore del web marketing settore che mi aiuta a completare la mia preparazione di bar manager glamorize lo conosco e lo frequento da sei anni e da un anno collaboro anche con loro oggi faccio un omaggio alla clientela del glamorize che ama tantissimo i sour quindi presento una variante perché mi piace giocare con i cocktail del whisky sour ciao a tutti grazie e vi aspetto al glamorize a barcellona